serata di grande equilibrio sui campi del verde rame dove gli esci le maglie a blu sfidano gli stampini oggi arancioni come al solito sono proprio i blu creare il primo pericolo bastano tre minuti e da corner arriva la prima conclusione bravissimo il portiere montis a superarsi di piede a prolungare poi la reazione degli stampini quali da corner creano un gran tiro la palla colpisce la traversa e allora c'è il vantaggio gli arancioni passano sulla sinistra arrivano alla conclusione meloni che supera un avversario il nono apre le marcature bellissima azione personale bellissimo gol la reazione degli esci non si fa aspettare sei minuti palla al centro fuori conclusione palla che si allarga nonostante il bel giro e allora arriva il pareggio cinque minuti dopo sono i blu che mettono al centro per podi che controlla stoppa bene si gira al ventesimo pareggia si fa riposo sull'una uno e sarà una ripresa lottatissima tanti palloni a centro campo tante conclusioni ma poca precisione tanto da parte degli esci quanto da parte degli stampini il freddo condiziona la gara e arriva il fischio d'inizio della seconda frazione signor chessa arriva subito una conclusione proprio dal calcio d'inizio ma nulla da fare e allora sono gli esci in arrivo varci dopo tre minuti dopo il ventottesimo palla larga come palla parata al trentatreesimo nella fase centrale della seconda frazione sono gli stampini a creare più pericoli nonostante manchi la precisione infatti al quarantesimo un tiro dalla distanza esce e a questo punto escono invece a loro volta gli escile che mandano davanti al portiere contu che con un tocco precisissimo vanifica l'uscita bassa del portiere e manda avanti i ragazzi in maglia blu i quali cercano di chiuderla per tutto il finale al quarantottesimo con un colpo di testa di corona da sotto porta sigliano la rete del 3 a 1 che sarà il risultato finale dato che chessa non concede recupero esce le 3 a 1 e sono loro a passare il turno nonostante i tentativi finali degli stampini